Dalle prime ore di questa mattina è stata eseguita una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. La squadra mobile ha eseguito 53 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP, che ha invece disposto gli arresti domiciliari per altri 12 indagati. L'operazione ha riguardato i capistorici, i soggetti vertici e gli affiliati di una pericolosa locale di Indrangheta, operante a San Teofemia e collegata alla più nota Cosca Alvaro di Sinopoli. Le accuse contestate dalla Procura di Reggio vanno dall'associazione mafiosa ad altri reati in materia di armi e sostanze stupefacenti. Nell'inchiesta sono coinvolti anche alcuni politici ai quali la DDA contesta lo scambio elettorale politico mafioso. Dall'indagine sarebbe emersa l'ingerenza della Cosca nell'attività del comune aspromontano di San Teofemia da Spromonte. Tra gli arrestati infatti il sindaco Domenico Creazzo, fino a poco tempo fa vicino al centrosinistra, ma alle ultime regionali candidato con il partito di Giorgia Meloni. Per Creazzo l'accusa di scambio elettorale politico mafioso avrebbe coltivato e realizzato il progetto di candidarsi e vincere le elezioni regionali rivolgendosi all'Indrangheta, in particolare a Domenico Laurendi. Il tramite sarebbe stato il fratello del consigliere regionale Antonino Creazzo, in grado, secondo gli inquirenti, di procacciare voti in cambio di favori e utilità, grazie alle sue aderenze con figure apicali della Cosca Alvaro, e poi direttamente al fine di sbaragliare gli avversari politici. Con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore dell'associazione mafiosa, è stato arrestato anche il vice sindaco Cosimo Ida, sempre di Sante Eufemia da Spromonte, artefice di diverse affiliazioni che avevano determinato un forte attrito con le altre componenti del locale di Indrangheta eufemiese e l'alterazione degli equilibri nei rapporti di forza tra le varie fazioni interne. Sono stati poi arrestati anche il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Alati, quale mastro di giornata della Cosca, il responsabile dell'ufficio tecnico, ingegnere Domenico Lupino, ritenuto referente della Cosca in relazione agli appalti, e il consigliere di minoranza Dominic Forogione, che aveva il compito di monitorare gli appalti stessi del comune. L'operazione Eufemus ha interessato anche il nord ed il centro Italia, oltre che in provincia di Reggio Calabria, infatti, numerosi arresti e perquisizioni sono stati eseguiti anche in Lombardia ed altre regioni. L'inchiesta ha confermato come la Cosca Sinopoli abbia allungato da tempo i suoi tentacoli in Lombardia, nel Pavese, ma anche in Australia, dove è presente una locale di Indrangheta dipendente direttamente dalla casa madre calabrese degli Alvaro.